Il comune di Udine compie un passo significativo verso l'istituzione del registro del testamento biologico, ovvero la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti di natura medica. Stamane è stato siglato un accordo con l'ordine dei notai. Dettagli nel servizio di Francesca Vigori. Come gestire la questione etica delle proprie volontà riguardo i trattamenti medici in caso di perdita di capacità di intendere e volere? La norma non esiste ancora, ma sulla questione venuta prepotentemente alla ribalta con la drammatica vicenda di Eluana Inglaro c'è un importante movimento di opinione e molti, associazioni e cittadini, chiedono una risposta almeno provvisoria. Il comune di Udine, primo in regione, ha deciso di facilitare chi intende depositare il cosiddetto testamento in vita con una convenzione con il consiglio notarile provinciale. Tutti i lunedì, a partire dal primo novembre, un notaio sarà presente dalle 10 alle 12 nella sala del gonfalone a Palazzo D'Aronco per accogliere le volontà dei dichiaranti. Queste sono delle espressioni di volontà che hanno il valore di essere state espresse dall'interessato e rese accessibili alle persone che l'interessato dichiarerà. Però non hanno nessuna cogenza, nessuna garanzia di esecutività perché non c'è una norma che lo assicuri. Quindi questo è quello che al momento si può fare, ma d'altra parte però i cittadini questo chiedono. Chiedono di poter lasciare le loro volontà in merito al trattamento sanitario, sperando appunto che poi le persone che ne potranno accedere sapranno interpretare quella che era la loro volontà. I notai aderenti, ha precisato il Presidente del Consiglio Provinciale Notarile Giancarlo Switner, non potranno ricevere e non accetteranno dichiarazioni che sono in contrasto con la normativa di legge. Ad esempio ha sottolineato non si potrà richiedere di staccare la spina perché questo si configura come eutanasia e ovviamente non è possibile per legge.